Si stanno dimostrando una barzelletta, a dir poco. Si stanno dimostrando, mettendo alla luce le modalità con cui si stanno preparando, predisponendo, partendo dalle designazioni rutilanti, si stanno dimostrando nella speggiore facies partitica della città al servizio dei partiti. Il PDL sta giocando a perdere, ma purtroppo questo gioco è deleterio per la città e quindi io lascio il PDL. Gli urbanisti facciano i tecnici, quando vengono chiamati dagli amministratori, competenti, capaci e mettano in mostra la loro qualità e la loro esperienza professionale. Non si trasformino in quello che non sono. Sarà candidato sindaco senza partiti? Sarò candidato sindaco senza partiti. Con una lista con quali caratteristiche? L'amore per la città, la qualità, la competenza, l'attaccamento. Chi non farà questo non potrà concorrere con me. Temo, spero che però i cittadini in questo lanciano un appello, abbiano consapevolezza, che abbiano lo stesso amore che io nutro, che abbiano la coscienza di dover fare qualche cosa e di non aspettare che gli altri li aiutino per aiutare la nostra città e il nostro territorio.